Circa 300 persone tra contadini e stakeholders questa sera davano vita ad una serata speciale, quella del Galà dei Contadini. Sì, abbiamo inteso declinare un po' una festa. Questa idea mi è venuta un po' facendo una ricerca su Google. Il Galà dei Contadini non l'ha fatto mai nessuno. A noi ci piace fare delle cose nuove. Nuove. Elevare i contadini e metterli al centro penso che sia arrivato il momento nei territori per fare questa cosa qua. Ecco, stasera accoglieremo. C'è oltre 100 contadini e oltre 100 stakeholder che sono ristoratori, albergatori, chef, cuochi. Tutti coloro che sono interessati ad ascoltare le storie ma anche a disintermediare comprando direttamente da loro. La serata di questa sera ha un po' il proseguimento naturale di quello che è stato un anno di ascolto delle contadine. Sì, siamo andati nelle loro case. L'unico momento che loro hanno libero è quello della sera. Abbiamo chiesto loro di aprirci le porte, di invitare i confinanti. Abbiamo scoperto che tra di loro non si conoscono e siamo arrivati a conclusione che laddove non c'è una relazione non può nascere naturalmente un'aggregazione, la condivisione anche dei mezzi agricoli e non può entrare l'innovazione. Laddove non c'è il terreno della relazione non può succedere praticamente nulla.